E' stato annunciato giovedì mattina il nome del nuovo vescovo della diocesi di Cirignola, Ascoli Satriano. L'annuncio è arrivato direttamente dall'attuale presule, Monsignor Felice di Molfetta, individuato da Papa Francesco in Monsignor Luigi Renna, del clero della diocesi di Andria, che finora era stato rettore delle Pontificios del seminario regionale Pio X di Molfetta. La notizia è stata accolta con un applauso. So di inserirmi nel cammino di una chiesa viva, si legge nel messaggio inviato alla cittadina di Cirignola dal neovescovo. Tra l'altro ha auspicato un nuovo sussolto di legalità e ha rivolto un pensiero al mondo della scuola senza dimenticare i giovani, ma anche i diritti dei poveri e di coloro che lontano dalla patria per pochi euro mettono a rischio la loro salute nei nostri campi.